è una polemica ci ha rimandato l'estate chi è? non è Walter vero? non è Walter è Walter è forte va bene, va bene, hai dentro Non è un bel lavoro, vado giù, è troppo forte, bravo, bravo, ma non sembra, ma spinge, non so, ho visto il vento, ha dato una volta 31, mi ha fatto un decollo da fiodi, ma hai visto un decollo da fiodi? No, pensavo che eri anni sì, guardavo le webcam, guardavo le webcam, ho detto minchia, ma ci sono andati, ho messo un tempo per tutta la settimana che forse si salvava l'oledì e mercoledì, pensa un po', bene, sono contento, un'oretta e mezzo ci sono stati, bravo,